Questi fenomeni di esplosione della rabbia tra vari gruppi contraposti che possono essere politizzati o no, sono esplosi sempre in periodi di transizione, di repentini cambiamenti dell'assetto della società. C'è una ciclicità anche nel ritorno di queste forme di scontri, di esplosioni anche di rabbia sociale. Adesso sono amplificati perché abbiamo come cassa di risonanza i media e i social e tante altre forme di aggregazione che un tempo non c'erano, un tempo si andava al mare, si andava in piazza. Certo, no, questa è una questione molto interessante. Secondo me, non solo secondo me, penso, la studiosa Nancy Fraser, il momento che noi viviamo non è esattamente un momento di transizione, ma è quello che Gramsci è una categoria molto attuale che ha un interregno. Cioè Gramsci dice che l'interregno è quel momento in cui il vecchio ordine è morto e il nuovo non è ancora nato. Cioè un momento in cui noi percepiamo ormai la scarsa credibilità di ciò che c'era fino a un attimo prima, ma non vediamo ancora all'orizzonte ciò che ci sarà domani. O se lo vediamo non è qualche cosa che sembra di scostarsi di molto da un peggioramento di quello che già c'era prima e che ci convince sempre di meno. Quindi la congiuntura storica attuale mi sembra un momento di non transizione in questo senso anche abbastanza forte e quindi anche il tipo di rabbia sociale espressa in questo momento, e qui c'è anche una sfida politica, è una rabbia particolarmente difficile da indirizzare anche in direzioni equalitarie, in direzioni trasformative, che è anche una delle ragioni credo per cui è così facile vedere la rabbia come un'esclusiva di un discorso conservatore, nella nostra epoca storica piuttosto che in altre, penso in epoca in cui parlare di contestazione richiamava ad un immaginario radicale che oggi invece non è lì a darci conforto, non c'è più l'idea di dire la contestazione come un fenomeno sociale diffuso è magari positivo, è magari creativo, è magari interessante o d'avanguardia. Da un lato sicuramente si possono fare dei ragionamenti diversi a seconda di quella che è la nostra lettura della congiuntura rispetto ad altre fasi. Al tempo stesso si potrebbe fare un'analisi della nostra società in termini di categoria, ad esempio di repressione, che è la scommessa di una certa scuola di Francoforte, di certe letture che dicono che la società capitalistica comunque del capitalismo avanzato è una società che per funzionare comunque deve imporsi dei livelli di repressione molto elevati, repressione di impulsi di un certo tipo, repressione di certe forme di socialità, repressione di certi modi anche di manifestazione del dissenso politico eccetera e questo crea, voglio dire, scoramento, crea rabbia, crea delle risposte che possono essere molteplici ma che comunque sono inevitabili all'interno di una società che ha questo nucleo repressione. Non è una lettura che mi convince del tutto nella misura in cui rischia di essere una lettura forse un po' statica, cioè che magari non coglie troppo le differenze tra diversi modi di repressione. La società di oggi è repressiva in un senso molto diverso di come era la società dei primi anni 60, una repressione se vogliamo molto più subdola, una repressione che si basa sul permissivismo più assoluto per certi versi, ma che al tempo stesso riesce a essere difficile a disinnescare proprio per questo. In questo senso direi che oggi abbiamo bisogno della nostra rabbia migliore, effettivamente la rabbia politica anche radicale di cui forse c'è bisogno oggi è una rabbia che è chiamata a delle sfide ancora più complesse. Oggi c'è una sorta di pregiudizio contro il conflitto in qualche modo, il conflitto come male in quanto tale, come male a crescindere e appunto di cui la condanna nei confronti del ricorso alle passioni in politica che è difficile oltrepassare, è difficile quasi avere la chance di esprimere un tipo di rabbia, di dissenso che sia radicale, che sia forte. E infatti non c'è. Secondo me è più che non si vede che non c'è. Non che non ci sia la rabbia, ma questa manifestazione legittimata, sociale, di quella che un tempo erano le piazze, le manifestazioni, ma contro l'ordine costituito. Forse non c'è più la piazza. Le piazze ci sono. Probabilmente è proprio perché c'è anche quell'altro canale, i social, no? Permette a molte più persone di ricevere quello stimolo, quella coesione di rabbia che poi le porta in piazza. E quindi con tutte le cose dette negative della congiuntura attuale è anche una congiuntura che offre di torse inedite, cioè anche questo è importante. Il digitale non esclude, diciamo, l'andare in piazza, no? Anzi, lo rafforza in certi casi. Poi ovviamente questo crea tutta una serie di interrogativi, no? In questo tipo di mobilitazione di solito comunque si articola su piattaforme che sono proprietarie, che sono delle piattaforme che hanno un forte controllo gerarchico, no? Pensiamo a Facebook, è un problema più di sistema, cioè se stiamo dando al singolo o al privato, in questo caso anche un interesse economico, la possibilità di valutare, di filtrare ciò che entra nel dibattito pubblico, gli stiamo dando, diciamo, un potere di agenda che difficilmente poi ci riprenderemo. Appunto questo genera anche molte aporie. Non a caso i social da un lato aiutano anche a indirizzare la rabbia in direzione politica straordinaria, ma penso anche in cose come la rivoluzione egiziana di Piazza Tafrino. Lì è veramente qualcosa che è in un contesto molto repressivo, l'unico canale ancora in parte libero è appunto il canale digitale e poi lì succede qualche cosa di straordinario che ha anche un grande potenziale di emulazione in altri paesi del Nord Africa e del mondo arabo, ma al tempo stesso appunto noi parliamo anche della rabbia sui social come quel fenomeno che ci rende tutti e tutte molto più incattiviti, molto più polemici, che ci porta diciamo anche a proprio fare una grande fatica emotiva, ad aprire un social netto che i nostri profili che abbiamo adesso. Quindi anche qui pregi e difetti da un lato per indirizzare meglio le risorse per indirizzare meglio la rabbia, dall'altro la grande tentazione di buttare la rabbia molto in un candelone indistinto. Da un lato secondo me siamo molto disabituati appunto a modalità di protesta anche radicali. Penso che sia problematico il fatto che le uniche modalità di anche attivismo politico che siano immediatamente efficaci oggi siano modalità tra le quelle moderate. Questo è un problema in un certo senso, questa mancanza di potenzialità di esprimersi anche in modo militante, dall'altro secondo me spinge a riconsiderare cosa noi consideriamo radicale e militante. Una cosa che anche forse in modo sorprendente, mi hanno fatto quattro presentazioni del libro negli ultimi quattro giorni, questa è la quinta volta che ne parlo. Fatti sei preparato! Tre volte! Sembra quasi che io l'abbia scritto il libro, in realtà l'abbia scritto il mio amico che mi manda. Tre volte su cinque mi hanno chiesto, peraltro persone anche giovani che quindi magari non hanno osservato il fenomeno con i propri occhi dice, e il black block che ne pensi? No? Cioè perché poi ci sono stati vent'anni di Genova, quindi adesso tutti li parlano e dice, ma quello che tipo di rabbia hai? Cioè, voglio dire, quella era una cosa che quando io ero ragazzino, bambino era considerato il top del radicalismo. Cioè, comunque mettersi un passamontagna della spasciare le vetrine delle banche. Sembrava appunto, per un'espressione militante, anche di appropriazione conflittuale dello spazio pubblico, quello sembrava il top. Mi verrebbe da dire, col senno del poi, no? Quanto quella cosa era molto spettacolare e quanto era molto radicale. Secondo me era molto spettacolare e molto poco radicale, no? Mi verrebbe da dire i movimenti sociali, anche radicali, che nell'ultimo decennio abbiamo osservato, non utilizzano il tipo di strategia. Non perché siano dei movimenti per forza di cose non violenti. Cioè, il black box è un movimento che, diciamo, reinterpreta anche la rivolta urbana. Cioè, un movimento che se è necessario mettereci il tasso qua. Però non è quell'uso estetizzante, no? Della violenza che poteva caratterizzare un fenomeno come il cosiddetto black block, no? Ma è qualcosa di molto più razionale e ragionato. Cioè, uso la violenza quando non ho, diciamo, strumenti migliori e quando so che probabilmente sarà efficace. No? È un uso molto più strategico, appunto, della violenza. Mi chiedo oggi, anche sulla scia, penso, di movimenti femministi molto radicali che sono movimenti che usano molta poca violenza. Molta violenza simbolica, magari, ma molta poca anche violenza di piazza nelle loro rivendicazioni. Allora, mi chiedo se in un certo modo di anche mimare il conflitto, perché la strategia del black block è appunto una strategia estetica, estetizzante, no? Cioè, il conflitto non ha quell'intensità nella piazza come negli anni 70, quindi la ritraiamo quasi artificiosamente. Mi vede a chiedere se non ci fossi anche lì un'idea del perfetto manifestante, del perfetto rivoluzionario come implicitamente maschio, muscoloso, che sa usare una mazza da baseball. È un'idea proprio molto testosteronica, diciamo, anche del radicalismo politico, che penso sia anche arrivato il momento di mettere in discussione. Non per votarci, diciamo, alla non violenza sempre comune. Una delle cose anche più difficili, poi, nel parte più difficili del libro, è riflette sul rapporto tra rabbia e violenza. Sicuramente la rabbia politica non è per forza di cose violenta, no? Ma appunto, spesso la non violenza può essere più efficace, ma non è neanche per forza di cose non violenta. Ci possono essere dei casi in cui il modo migliore per regolare la rabbia politica, politica di radicalità, si ha violenza. Mi verrebbe da dire molto più spesso violenza sulle cose che violenza sulle persone. Però non è detto. Un altro cliché reazionale della nostra epoca, la violenza è sempre sbagliata, l'abbiamo sentito dire a tutti. Mi verrebbe da dire sbagliatissimo. Cioè, questo paese nasce sulla resistenza, voglio dire che non era esattamente un, diciamo, un movimento fascista, no?